Benvenuti a Parlamente, una nuova puntata. Oggi abbiamo una persona a me particolarmente cara, perché posso definirlo un amico, che ha percorso la sua vita da aronese con mille sfaccettature e oggi andremo a vederle. Abbiamo piacere di aver con noi il sindaco di Arona, Federico Monti. Grazie di avermi invitato, grazie Ricco. Sai che io quando posso venire guarda te sono sempre molto contento, anche perché l'ambiente mi piace. Mi piacete come voi, come lavorate, mi piacciono i vostri progetti, quindi sempre molto volentieri. Guarda, io ti conosco, conosco la tua famiglia. Mi è piaciuta l'idea di far conoscerti come uomo. Oggi non tratteremo di politica, non tratteremo di problematiche varie. Oggi vogliamo conoscere Federico Monti, uomo. Quindi vorrei partire con te da ragazzino. Tu sei un aronese doc. Sì. E ad Arona noi siamo quasi coscritti, possiamo dirlo. Sì, più o meno. Così almeno mi sento un po' più giovane io, un po' più vecchia, non lo so. E dimmi un po'. Mi hai fatto un complimento. Lo so, lo so. Dimmi un po'. Federico, bambino. Sì. Che ricordi hai? Io ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia. Innanzitutto perché ho vissuto veramente in un periodo d'oro, diciamo, per quanto riguarda quegli anni. Perché erano anni comunque di spensieratezza, di situazioni ben lontane da quelle che purtroppo i ragazzi di oggi hanno vissuto, che non hanno sicuramente portato bene, hanno creato molti disagi. E quindi io vivevo ovviamente con la speranza di poter realizzare nella mia vita i miei sogni. Ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia cristiana, sostanzialmente, che mi ha dato sicuramente dei valori forti. Una famiglia che ha vissuto la brutta esperienza della guerra, perché era il periodo poi dagli anni... Io sono nato a cavallo tra gli anni 50 e 60. E quindi il ricordo di ciò che era stato i patimenti della guerra erano molto vivi e molto presenti comunque nella nostra famiglia. Ma che hanno contribuito comunque a darmi dei valori importanti, che tutt'oggi mi porto ancora dietro, fortunatamente. E questo ha contribuito a far sì che tutto sommato, anche nei momenti di difficoltà, se vuoi, perché nella vita, quando uno vive parecchio, ne parlavamo prima, ha dei momenti di difficoltà che riesci a superare comunque riflettendo oppure tirando fuori quello che è dentro di te e ti dà la forza di andare avanti, insomma, di superare diversi momenti. Da ragazzino, come tutti, la prima cosa che ho sognato è quella di fare il calciatore. Perché, insomma, il calcio era diverso da oggi, era molto più poetico, era fatto di sensazioni, di legame con la tua squadra. Insomma, oggi è un calcio professionistico che non si riconosce più rispetto a quello che era una volta. È molto meno poetico, chiamiamolo, per cui le enfasi erano molto diverse. Ho avuto la fortuna di nascere e di crescere in una famiglia anche di artisti, per cui ho avuto la fortuna di condividere parecchie sensibilità, quelle della musica, quella della... perché mio padre è un pittore aronese molto conosciuto dal pubblico aronese. E quindi, chiaramente, gli esempi sono stati molto positivi, no? Nonostante non avessi avuto la mamma, perché i miei genitori si sono separati quando io ero molto, molto piccolo, però ho avuto un nucleo familiare che mi ha seguito molto da vicino e mi ha dato molto, proprio dal punto di vista umano, e non mi è mancato nulla, tutto sommato. E poi, gradualmente, chiaramente i tuoi interessi cambiano, ed è cresciuta in me, per esempio, la grande passione per la musica, oltre che per lo sport, perché sono stato indirizzato da mio padre, che a sua volta era un grande sportivo e anche un ottimo musicista, oltre che essere un bravissimo pittore, ad avere la passione per la musica. E quindi... però sto facendo un monologo, quindi non so perché adesso vuoi dire... No, no, io ti lascio parlare perché ho già individuato alcuni punti che vorrei approfondire con te. Religione, la parte religiosa, la parte sportiva, la parte artistica. Sono i tre pilastri, forse ne avrai anche un altro, fondamentali che hanno rappresentato la tua vita. Certo. Quindi, torniamo un passo indietro, la parte religiosa. Quanto è importante per te? E quanto ha influito sulla tua crescita? Allora, la religione, qualsiasi religione che si professi nel mondo, ti insegna ad avere il rispetto per il prossimo, il rispetto per te stesso, il rispetto per il prossimo. Ovviamente a vivere nelle regole, perché se tu vivi in una comunità devi avere il rispetto per il prossimo. E quindi la religione è vissuta come la si viveva allora, perché nell'ambito familiare, ed è molto importante per i giovani avere un ambito familiare che lo tuteli da tutto ciò che esternamente potrebbe inficciare alla crescita di un ragazzo, no? Quindi diciamo che la religione che ho vissuto io era quella che credeva molto nell'aspetto familiare, no? Per cui che ti dà poi un indirizzo molto forte, che poi per forza di cose nel futuro tu avrai dentro di te, cioè come un fattore molto naturale. E quindi questo è stato molto importante. Io poi non sono un praticante, sono religioso perché credo in qualcosa che è un'entità di cui poi non sapremo mai bene definire, però in un certo senso se tu hai dei valori importanti vuol dire anche avere della fede sostanzialmente, no? E quindi questo è molto importante, secondo me. Oggi si è un po' perso questo rapporto con i ragazzi. Sì, oggi effettivamente abbiamo una visione un po' diversa da quella che era, ma anche a livello di, che ne so, di trovarsi al campetto della chiesa, a fare il gruppo. Io mi ricordo quando appunto si faceva il gruppo si andava a bere il tè con le suore, con i preti, no? Io non so se oggi ancora penso di sì. No, lo si fa perché noi abbiamo una bellissima realtà che è la Cagio, in Arona. Cioè la Cagio è un elemento molto molto importante di aggregazione. Questo è dovuto al fatto che c'è sempre un responsabile che fa quel tipo di lavoro e fa molto proselitismo. Questo è fondamentale. C'è sempre un uomo che fa la differenza in questo caso. E l'altro invece, l'altra colonna, tua, è lo sport. Certo. Perché il sport per te ha rappresentato un passo importante. Assolutamente. Anche se c'è qualcuno che mi prendi in giro. E certo, ma no, invece no. E mi dice che nella mia vita sono stato un maestrucolo, invece no. Sì, sei stato un maestrone. Sono stato, diciamo, non voglio enfatizzare. Si parla di tennis. Sono stato, esatto, sono stato un buon maestro di tennis. Allora, io da ragazzo sono stato un ottimo giocatore a livello regionale, chiaramente perché le possibilità economiche non potevano spingere i miei familiari a farmi fare quel passo che potesse essere quello di poi intraprendere. Poi, allora, le dinamiche erano molto diverse da oggi. Diciamo che oggi ci sono molte più possibilità. Avevo un discreto talento che, ad un certo punto della mia vita, ho deciso di utilizzare non più nell'agonismo, ma nel metterlo in pratica nell'insegnamento. Vi dirò che questa scelta è stata un pochino condizionata dal fatto che io, giovanissimo, ho deciso di... la prima persona di cui mi sono innamorato, ci sono andato a vivere insieme, insomma, avevo fatto questa scelta, forse perché mi mancava qualcosa dal punto di vista, così, magari, dei rapporti con quella figura femminile che potesse essere la mia mamma. E quindi, ad un certo punto, ho deciso questa cosa qui. È stata positiva, in un certo senso, negativa in un altro, perché io avevo, tra i miei progetti di 16enne, 17enne, 18enne, avevo quello di fare il conservatorio, a cui ero iscritto, e di fare l'università, a cui io, poi, alla fine ero iscritto. Cioè, mi piacevano queste diverse cose. Ho conosciuto questa ragazza, di cui mi sono invaghito ed innamorato, siamo andati a vivere insieme, lei non poteva farlo perché ancora faceva finire l'ultimo anno di scuole superiori, quindi era appena maggiorenne, quindi mi ha fatto questa follia, tra virgolette, e il primo lavoro che ho dovuto fare era dare lezioni di tennis. Quindi io, ho 19-20 anni, ho messo in pratica la mia conoscenza tecnica, poi ho fatto gradualmente la scuola nazionale maestri, e poi sono diventato un buon maesterno. Normalmente, il passaggio è inverso, quindi, normalmente un giocatore professionista, a fine carriera, diventa maestro di tennis, tu invece hai saltato. Ho saltato tutte queste, ma sai, o andavo a fare qualsiasi altra cosa, perché da ragazzino, per comprarmi la mia prima batteria, sono andato a fare il cameriere come tutti, perché è la cosa più bella. Ecco, un valore importante che i miei mi hanno dato è stato quello di non mettermi mai i soldi sul tavolo. Primo perché ce n'erano pochi, secondo perché non è un buon valore, è quello di mettere a disposizione dei ragazzi i soldi. Io mi sono preso un garellino, il garellino, il mio padre mi ha detto, vieni a pitturare, il mio padre va a fare il bianchino, a pitturare perché io volevo il garellino. Il ciao, il ciao, il ciao, mi ricordo il ciao 30.000 lire, 30.000 lire ho usato. Sì, anche il mio era usato, ho dovuto lavorare parecchio. Però, insomma, le mie finanze le ho messe in quegli investimenti lì. Quindi, maestro, ma ti sei trovato bene? Assolutamente sì, perché comunque è qualche cosa che mi piaceva chiaramente fare. Io parallelamente cercavo di coltivare anche la stagione agonistica, però non è facile, perché fare il maestro di tennis vuol dire che non ti puoi allenare come vorresti, vuol dire che devi dedicare tante ore. E io mi ricordo che ho passato veramente degli interi pomeriggi, delle stagioni intere. Io ero in campo dalle 10 alle 12 lezioni al giorno, vuol dire stare in campo 9-10 ore. Puoi capire che quando arrivavi a dover dare il meglio di terra a livello agonistico, insomma, era un pochino difficoltoso, anche se ero molto giovane. Comunque, parallelamente, le due cose sono cresciute, però ad un certo punto mi sono dovuto fermare. Però il fatto di aver fatto questa professione mi ha dato moltissimo perché ho conosciuto il mondo, chiaramente. Mi ha dato molto perché ho dato molto a mia volta, no? Dalla mia esperienza, seppur breve, agonistica, tecnica, ma umana. Perché comunque tutti i ragazzi che hanno imparato a giocare a tennis, come a me, sono veramente centinaia. Alcuni di questi sono diventati dei giocatori molto, molto forti a livello nazionale. Te l'avrei chiesto dopo. Ah, infatti. E mi ricordano come quasi un loro... Perché sai, il rapporto tra il 15enne, il 14enne e il 25enne è molto, non so come dire, si è molto vicini come generazione in tutto sommato, no? Quindi mi vedevano come un idolo, ma non sufficientemente grande, cioè quasi un loro compagno. Arrivabili, un fratello. Esatto, un maggiore che dava loro. E per cui si vivevano delle esperienze molto, 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 molto positive, che comunque loro sono cresciuti bene, con un buon ricordo di me. Tant'è vero che ho tanta gente che ancora mi vuole bene sotto quell'aspetto lì. E io sono cresciuto molto perché comunque è un motivo di crescita. Fare il didatta ti fa crescere, capito? Ma ancora adesso chi viene ad Arona ti vede in giro con la racchetta in mano o hai attaccato la racchetta al chiodo, no? No, l'ho attaccata per un certo periodo perché onestamente diventa difficile fare certe cose. Allora, quando mi sono reso conto di non poter più fare dell'agonismo da over, perché poi da over ho ripreso a giocare e sono diventato campione regionale over 55. Attenzione, io, mio grande amico e compagno di sport, abbiamo vinto un campionato regionale over 55, che era una cosa semplice e per cui, insomma, del talento c'era. Poi ho smesso, adesso ho ripreso perché mi sono reso conto che il tennis è un bellissimo sport che ti dà comunque elasticità, che ti dà i riflessi e poi è divertente, insomma. Non faccio più gare perché, insomma, alla mia età onestamente non mi sembra il caso e quindi non ho manco il tempo adesso da sindaco, ho veramente non molto tempo da dedicare a me stesso. Noi siamo fortunati a Darona perché abbiamo non un campo, anzi non una struttura, ma due strutture. Abbiamo due strutture molto belle, abbiamo il ciclo tennis aeronautica che si affaccia sul lago ed è un luogo bellissimo dal punto di vista logistico, hanno una bella scuola di tennis e poi abbiamo l'action tennis dell'altro maestro che abbiamo a Darona. Era una struttura molto 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 bella che loro anno per anno incrementano, adesso hanno aggiunto altre strutture e direi che stanno poi facendo un lavoro proprio per il fatto di avere parecchi campi coperti, hanno la possibilità di avere tanti ragazzi, hanno veramente un numero esagerato. Adesso hanno fatto i campi da padel, giusto? Hanno fatto due campi da padel, che è uno sport che sta avendo una esplosione a livello mondiale, questi spagnoli si sono inventati questa cosa e adesso, a me onestamente, magari posso dirlo, non lo dico. E beh, dal tennis... Ma no, ma non è vero, ci sono tanti tennis che si sono convertiti in padel. Io giocavo a squash. Ecco, anche quello non l'ho mai giocato. E allora era divertente, io ci andavo perché si arriva per incontrare le ragazze. Ma questo funzionava e quindi... No, ma c'è un aspetto che ho dimenticato. Mio padre era un grandissimo appassionato di tennis tavolo, il famoso ping pong. Ping pong. Io prima di giocare a tennis sono stato veramente un grandissimo giocatore di tennis tavolo a livello nazionale. E infatti negli under 14 ero il numero uno d'Italia. E ho vestito la maglia azzurra della nazionale perché sono stato convocato ad un raduno nazionale. Diciamo che il tennis tavolo ha delle similitudini con il tennis, anche se le regole sono molto diverse. Ma ti dà una certa sensibilità perché certi gesti sono simili, certi. E ti dà una sensibilità con la palla. Ed ecco perché il mio approccio col tennis è stato molto veloce ed immediato. Perché mio padre era appassionatissimo anche di tennis. La ragazza non lo poteva praticare perché allora il tennis era uno sport d'elita. E poi crescendo ovviamente, avendo un'autonomia economica fortunatamente per lui, ha cominciato a giocare al tennis e mi ha tramandato questa passione. Un giorno, io mi ricordo, il primo giorno che ho giocato al tennis me lo ricordo. E lui mi diceva, dai vieni, mi metti la racchetta in mano, poi a fili ora mi fai... E io ho cominciato a giocare al tennis come se avessi giocato da sempre. È una cosa impressionante. E questo è stato poi l'approccio mio. Ce l'hai nel DNA. Sì. I tuoi cromosomi sono a forma di racchetta. Sono datenista. Sì, sì. Esatto. Altri due aspetti che vorrei parlare con te, le tue colonne. Dicevo prima, una delle colonne che adesso mi è venuta in mente è l'arte. Sì. Tu sei un figlio d'arte. Sì, a 360 gradi. Esatto. Perché appunto tuo padre era un pittore molto conosciuto. E, da prendersi, anch'io ho a casa i suoi dipinti. E come l'arte pittorica, comunque l'arte è entrata e ha fatto parte della tua vita, e cosa ti sta lasciando, cosa ti ha lasciato? Eh, beh, è un mondo. Perché l'arte in generale, quando tu studi l'arte, vedi l'arte, studi la storia del mondo. Sostanzialmente, perché dai pittori del Seicento, che sostanzialmente dipingevano le immagini di guerra, dipingevano le situazioni, erano i portavoce, diciamo, di ciò che accadeva nella società. E quindi, cioè vai ovviamente ad avere dei riferimenti storici importantissimi, fino all'Ottocento, al Novecento, quindi ci sono i momenti importanti in cui l'arte ha fatto dei salti, diciamo, importantissimi, proprio perché ci sono state diverse rivoluzioni, proprio nell'arte in generale, nella musica, nella pittura. Quindi, diciamo che l'arte è importantissima, proprio perché è l'espressione dell'uomo nella vita. E quindi, se poi entri in quella dinamica, ti appassioni, perché capisci tante cose, capisci poi che sviluppo ha avuto nel tempo, a livello anche tecnico, se vogliamo, no? Come si dipingeva, cosa si usava nei vari periodi storici e che cosa poi ha rappresentato l'arte moderna e quindi con le sue varie, però non voglio entrare nello specifico, non voglio fare lo storico dell'arte, anche perché non ne ho le, diciamo. Però, diciamo, ho una certa conoscenza e questo me l'ha dato mio padre. Questo bagaglio, diciamo, è stato più che altro la frequentazione, no? Perché con lui, comunque, per esempio, una grande amicizia di mio padre è stato anche un mio grande amico, è stato Gianfilippo Usellini. Per esempio, per Arona Gianfilippo Usellini è stato una persona molto, molto importante, è stato un grande pittore, didatta, lui insegnava a Brera, quindi io, quando ero ragazzino, frequentavo Brera e quindi, per forza di cose, ero al cospetto con queste opere d'arte straordinarie, perché esiste, no? In accademia, nella struttura, una grandissima pinacoteca, che è la pinacoteca di Brera e quindi ti trovi già al cospetto di, con cose, cioè, diciamo che ho avuto fortuna sotto quell'aspetto, ecco, non sono, non posso lamentarmi sotto questo punto di vista. E quindi mi ha tramandato comunque dei valori, perché l'arte chiaramente ti trasmette anche dei valori, perché l'arte è disciplina, se tu non sei disciplinato non diventerai mai un grande artista, Non è che uno nasce così, dice, ecco, per esempio, uno dice, ma Picasso era un fenomeno perché faceva queste cose. Se uno va a vedersi la storia di Picasso, Picasso è uno che ha passato giorni e notte a disegnare. Picasso era un disegnatore clamoroso, anche se poi ha inventato il divisionismo, diciamo, è stato, nei suoi periodi storici, il suo sviluppo artistico ha avuto delle evoluzioni fino ad arrivare a ciò che è stato prima di morire. Poi ha fatto anche lo scultore, ha fatto tante altre cose. Ma, quindi, per dirti che Picasso era tutto giorno, si faceva un mazzo clamoroso, disegnava, disegnava, disegnava. Infatti c'è un suo periodo primo, se tu vai a vederti i vari musei, penso che magari ci sarai andato, ti sballodisci perché sembrava quasi Leonardo da Vinci per come disegnarsi, no? E quindi è disciplina, capito? Disciplina. Vedo, vedo che è un comune, la disciplina è un comune denominatore, perché sport è disciplina, arte è disciplina. Musica è disciplina. Musica è quello dove volevo arrivare. Io ti definisco amichevolmente sindaco rock, perché appunto mi piace definirti così. Sei un musicista, parlaci di questo aspetto. Allora, io parallelamente al mio lavoro, che era quello del maestro di tennis, coltivavo appunto da sempre, infatti l'ho detto vero, è scritto al conservatorio, perché volevo diplomarmi in percussioni. Io ho amato da subito le percussioni. Il mio primo oggetto su cui percutevo erano i bidoni. Una volta c'erano i bidoni del Dixan, adesso non so se ci sono ancora, non credo. Erano di cartone. Con questa, diciamo, sotto il metallo e sopra c'era questo perchio in plastica. E vi ricordo con il mio vicino di casa, lui suona una fidarmonica, e diceva, ci vorrebbe uno che suona la batteria. E allora mia nonna, che aveva sempre lì questi, ovviamente, dismessi perché ovviamente si usava il detersivo, e io ho provato con dei pezzi di legno, e effettivamente produceva un suono. Più grandi erano, più grave era il suono, più piccoli erano, più acuto era il suono. E accompagnavo praticamente questo mio amico con questi... e da lì mi è scattata una scimmia, ti dico. Poi il mio periodo è stato un periodo molto fortunato dal punto di vista musicale, perché ho vissuto tutto ciò che, diciamo, dai Beatles in avanti è successo fino agli anni, negli anni poi 90, fino agli anni 90, diciamo. Perché poi dopo la musica è molto cambiata, e quindi quel periodo storico è stato clamoroso, sia nell'ambito, diciamo, del pop, del progressive, ma anche nell'ambito... perché poi ad un certo punto ti rendi conto che negli anni 50-60 stava nascendo qualcosa di incredibile dal punto di vista del jazz, che poi è quello che ha, alla fine, accomunato un po' tutto il mondo rispetto a quella che è la musica... non scritta la chiamano, no, ma poi in realtà si scrive anche il jazz. C'era la musica sinfonica che veniva dall'Europa, diciamo, che era la parte più colta del mondo e la parte, diciamo, tra virgolette, meno colta a quella degli afro che veniva dall'Africa, no? Quindi quest'unione che è nata poi purtroppo per loro, perché con le segregazioni degli uomini di colore, no, lo schiavismo, quindi hanno portato questi schiavi poi alla fine negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti è nato quello che è poi che è la storia della musica, diciamo, moderna, anche se vogliamo, no, legata ai gospel, ai canti che si facevano nelle... dove c'erano le piantagioni di cotone, soprattutto una storia della musica moderna legata, appunto, ad un particolare territorio dove si era creato una certa situazione e da lì è nato il blues, poi il jazz, che poi ha avuto degli sviluppi diversi, no? A te il jazz ti ha dato tanto, ti ha dato tante conoscenze, tu hai suonato con il mondo, tu hai suonato con i più grandi jazzisti del mondo, sì, sì, ho avuto questa fortuna, anche questa, se vuoi, è una fortuna, ma, diciamo, un attimino a ritroso, la mia prima batteria me la sono comprata facendo il cameriere, dal pin-in, ragazzi, a un certo punto, pari, senti, guarda, io se vuoi ti compro una chitarra, ti compro un violino, ma la batteria no, perché non è mica tanto uno strumento, ma come non è uno strumento, e lì c'è stato l'agentrima con mio padre, e lui è un violinista, figura, allora dico, guarda, non ti preoccupare, vado a lavorare dal pin-in e la batteria me la compro, come cameriere, perché il pin-in nel ristorante, certo, pin-in era il famoso pin-in del-ier, e mi sono comprato sta batteria e da lì, insomma, chiaramente poi i vari gruppetti con i ragazzi, e poi a un certo punto le prime lezioni di batteria ho avuto, in quel momento la fortuna di avere qui vicino a noi, sul lago d'Orta, a Omenia, un didatta che nella settimana viveva a Milano, nel weekend veniva ad Omenia, perché lui è originario in Omenia, il famoso mitico maestro Enrico Lucchini, che era sostanzialmente il maestro di tutti i più grandi batteristi che poi si sono susseguiti, diciamo, nell'Interland milanese, e tutti i vari batteristi che ancora oggi sono, che ne sono il batterista di Elio Restoriatese, Max Furian che ha studiato con la Pausini, e tra questi suoi allievi c'ero anch'io, quindi ho avuto la fortuna di incontrare un bravissimo didatta, il quale mi ha visionato come batterista rock, come tu dici, perché io seguivo il Progressive, però mi ha inculcato la passione per il jazz, e da lì poi c'è stata una sequela di situazioni tali per cui ho conosciuto, perché sono stato ingaggiato, dopo aver fatto un provino con i miei amici jazzisti, i primi jazzisti, mi ha fatto un provino in studio, è stato ascoltato questo provino da un grandissimo contrabbassista italiano, che si chiama Tiglio Zanchi, posso dirlo tranquillamente, il quale in assenza di un batterista di un gruppo famoso italiano, ma dai proviamo a chiamare Federico, io l'ho sentito a un bel piatto, suona bene, e da lì è partita la mia carriera, ho esordito a Bolzano, mi ricordo in un locale molto importante, che si chiama Marchi, ce n'è uno a Londra e ce n'è uno a Bolzano, come il Blue Note ce ne sono pochi nel mondo, e da lì è nata la mia passione per il jazz, ho suonato veramente con tanti tanti, adesso non li elenco tutti perché sennò può essere mai che faccio. Sennò Sarabiano, ecco. Sennò Sarabiano, no, perché Sarabiano, però ti guarda questo che sbruffone, ho frequentato veramente il gota del jazz. L'ultimo aspetto che tocchiamo per un minuto, il dovere di cronaca, è che tu sei il sindaco di una città turistica, e so che queste tue colonne, le riporti all'interno dell'amministrazione, quindi lo sport, la parte legata abbiamo detto alla religione, o comunque all'aggregazione, all'arte, alla musica, quali devono essere gli altri ingredienti che un sindaco deve avere per amministrare bene la propria città? Gli ingredienti che deve avere un buon sindaco, a parte la sua formazione personale, è avere dei bravi collaboratori, perché io tutto so fare tranne che il commercialista, per esempio, e devi avere una persona che si occupa di bilancio e deve essere molto brava, perché tutto quello che tu proponi, cioè idealmente per la tua città, il progetto che tu hai in testa deve essere poi pesato dal punto di vista economico, e quindi è fondamentale avere un bravissimo assessore al bilancio, non lo nomino perché, però sappiamo chi è, ed è veramente un valore aggiunto. Devi avere poi degli assessori che si occupano dei vari ambiti, dei vari assessorati, e che portano avanti comunque il tuo progetto, a parte che il progetto nasce comunque, è un progetto unitario che tu al tavolino stabilisci prima di metterci la faccia. Lo abbiamo fatto per il sindaco che mi ha preceduto nel 2009, quando abbiamo fatto l'allora campagna elettorale, e lo abbiamo fatto per me nel 2015, quando sono stato sostanzialmente, perdonami, nel 2020, quando sono stato insinito di questa responsabilità, la chiamiamo così, questa responsabilità, dico sei candidato sindaco, e poi in effetti i numeri hanno dimostrato che tutto sommato avevamo lavorato bene nei precedenti anni, quindi sono stato eletto, ho superato abbondantemente il 64, quasi il 65%. Quindi hai seguito la strada, seminato bene, hai aggiunto questi valori che sono poi parti fondamentali di una buona società per avere un'amministrazione, è un lavoro che adesso ti gratifica. Mi gratifica molto, cioè tu quando fai sindaco devi avere una certa sensibilità, perché se non hai una certa sensibilità sei finito, devi considerare che sei il sindaco di tutti, quindi qualsiasi, non devi essere ideologico, e noi non lo siamo mai stati. E quindi tutto ciò che ti arriva dal territorio deve essere valorizzato se tutti si ritiene che questo abbia un valore, no? E specialmente questo valore deve essere poi proiettato a beneficio della comunità, della collettività. Quello che tu proponi poi deve essere diciamo la sintesi di un lavoro che fai sul territorio è capire che cosa serve alla tua città per crescere, no? Per far crescere il PIL della tua città devi andare ad intervenire in determinate situazioni. E io penso che noi questo lo abbiamo fatto, perché oggi Arona è veramente una cittadina appetibile per chiunque voglia per esempio venire ad aprire un'attività, perché qui abbiamo veramente il mondo che arriva in tutti i periodi dell'anno. Quindi questo è fondamentale. Allora io te ringrazio Federico perché abbiamo passato 30 minuti così con uno schiocco di dita speriamo di aver fatto vedere di te anche aspetti che tanti non conoscevano. Invitiamo chi ci ha visto a venire a visitare la nostra bellissima città Arona, a venire a conoscerti di persona perché tu sei a disposizione di tutti. Sì, in qualsiasi momento. E ti ringrazio ancora per questa chiacchierata. Grazie a te. Noi signori ci vediamo la prossima puntata di Parlami di te con un altro ospito. Grazie a tutti.